Differenza tra flash e illuminatori a led. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi ai quali dobbiamo porre una risposta e lo faremo in questo video. Ciao a tutti e bentornati. Come vedete oggi abbiamo due illustri ospiti qui nel nostro video, cioè abbiamo un flash della Godox a 600W, il DP603V, mentre qui abbiamo un Quadralight 600W. Ora vi dico subito che la Quadralight è stata sostituita dalla Quantum, quindi avete lo stesso tipo di illuminatore ma con marca diversa. Ma in questo video andremo a vedere tutte le differenze tra questi due tipi di illuminatori, soprattutto nell'ambito fotografico. Cercherò di essere il più semplice e schematico possibile proprio perché questo video deve essere per tutti. Tanto per cominciare parliamo subito della differenza principale. Un flash è un tipo di illuminazione che avviene in un secondo circa, mentre il led è un tipo di illuminazione continua. Questo ovviamente porta degli svantaggi e devantaggi, anche partendo dal presupposto che ci sono enormi differenze per quanto riguarda la potenza di illuminazione. La prima e più evidente differenza che possiamo notare tra i due è che essendo il led una luce continua è adatta sia per le foto ma anche per i video. E questo potrebbe essere un grosso punto a favore per il led perché soprattutto negli ultimi anni il video è sempre più richiesto nei servizi fotografici. Ma soprattutto una luce continua vi darà la possibilità di vedere seduta stante, quindi prima dello scatto, quello che state per immortalare. Il flash invece deve essere calibrato, deve essere studiato, non vi darà la possibilità di vedere subito sul momento come verrà lo scatto finale. Certo è vero che nel flash c'è anche la luce guida, ma è una luce molto meno potente rispetto a quella che potrebbe essere la luce del flash stesso e ci darà solo la possibilità di vedere come cade la luce sul soggetto. Un'altra grossa differenza che c'è tra il led e il flash è che i led spesso e volentieri, soprattutto quelli di ultima generazione, hanno la possibilità di cambiare la loro temperatura colore. Il flash invece è impostato su una classica molto vicina a quella diurna e per essere cambiata ha bisogno di avere delle gelatine davanti all'illuminatore stesso. Il led inoltre essendo una luce continua non ha bisogno di tempi di ricarica. Sappiamo benissimo che il flash essendo un'illuminazione che avviene in un secondo ha bisogno di essere ricaricato, quindi ci potrebbe essere una minima attesa tra uno scatto e l'altro. Ma ovviamente non sono solo vantaggi per quanto riguarda il led, perché questo video cercherà di farvi capire effettivamente la differenza di potenza che c'è tra i due. Prima di andare a vedere qualche esempio che ho scattato apposta per voi vi voglio fare qualche altro chiarimento. Se dobbiamo pensare al led come nostra fonte di illuminazione dobbiamo prendere in considerazione il fatto che ad esempio questo 600 watt non sarà mai potente come il 600 watt di un flash. E qui cominciamo a parlare del primo grande interrogativo. Se io compro due illuminatori come questi che effettivamente presentano lo stesso numero di wattaggio, perché poi la differenza di illuminazione è così grande? Quello che dobbiamo prendere in considerazione è la denominazione dei watt di riferimento, cioè nel led sono 600 watt mentre nel flash sono 600 watt al secondo. Che cosa vuol dire? Che nel 600 watt del led ci sarà un consumo di corrente appunto di 600 watt. Ma se andiamo a vedere esattamente questo modello in particolare ci accorgiamo che effettivamente il consumo è di 60 watt per un'equivalenza di 600 watt. Questa è una grossa differenza che dobbiamo capire perfettamente perché le luci a led sono in grado con un consumo minore rispetto alle vecchie luce alogene di produrre molta più potenza. Ed è proprio questo il concetto di equivalenza. Io ho un illuminatore a led che effettivamente consuma 60 watt ma che produce una luce equivalente di 600 watt. Nel flash invece ci riferiamo a tutt'altra scala di valori perché è una potenza che emette, accumulata, e che emette in un secondo. Quindi capirete che la differenza di potenza è veramente molto grande e anche il tipo di utilizzo. Ma a cosa si rivolge tutto questo? Ma ovviamente si rivolge soprattutto al triangolo dell'esposizione e quindi alla resa estetica finale delle nostre fotografie. Se avete capito più o meno come funziona la fotografia avrete anche capito che più luce c'è più ho la possibilità ad esempio di chiudere il lieframma, cosa che potrebbe essere molto ricercata soprattutto nella fotografia di ritratto ma anche in molti altri generi. Con il led invece la luce è molto meno potente e quindi se voglio un diaframma più chiuso dovrò andare necessariamente ad alzare gli iso. Sconsiglio vivamente di andare ad allungare il tempo perché la potenza di questo illuminatore già mi avrà costretto a mettere un tempo non troppo breve. Quindi se state cercando un tipo di illuminazione per le vostre fotografie cercate di tenere in considerazione questi fattori. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando andiamo a vedere degli esempi. La foto che state vedendo è stata scattata al massimo della potenza con il flash a 600 watt. Vi faccio notare il triangolo dell'esposizione ISO 100, diaframma 22, tempo 1 centosessantesimo. Ho mantenuto sempre questo tipo di triangolo e ho abbassato la potenza del flash. Qui è dimezzata, qui sta a un quarto e poi l'ho portato direttamente al minimo della potenza e con questo tipo di triangolo non si vede quasi niente. Andiamo poi a inserire il led e andiamo a vedere a cosa equivale la differenza di luce. Questo è il led al massimo della potenza e con un'immagine appena visibile. Guardate cosa ho dovuto fare sul triangolo dell'esposizione per poter vedere un minimo la sagoma del nostro soggetto. Nonostante il 600 watt al led sia al massimo ho dovuto cambiare un quantitativo di stop veramente notevole. Stiamo parlando di ben tre stop perché andiamo da 8 a 11 poi a 16 e infine a 22. Se vogliamo ottenere lo stesso quantitativo di illuminazione dobbiamo per forza andare a cambiare il triangolo dell'esposizione. Vediamo qui che cosa è successo. Ho mantenuto sempre ISO 100 e tempo 1 centosessantesimo ma sono andato addirittura a 2.8 di diaframma. Un tipo di illuminazione che sì mi permette di vedere il soggetto ma non è ancora sufficiente. Da 8 a 2.8 stiamo parlando di 5.6 uno stop, 4 un altro stop, 2.8 altri tre stop. Quindi sommati ai 3 di prima stiamo già a 6 stop di differenza. Proviamo ad avvicinarci a quello che è lo scatto iniziale con questo tipo di illuminazione e qui ci portiamo addirittura, visto che non potevo aprire ulteriormente il diaframma, a ISO 200. Quindi un ulteriore stop rispetto a quelli di prima siamo passati a 7 stop totali. Per avere un tipo di luce simile a quella iniziale ho addirittura portato ISO a 100. Quindi se prima stavamo a 200 con 7 stop di differenza adesso stiamo a 400 con 8 stop di differenza. Veramente un quantitativo di luce enorme che vi fa capire come scegliere bene tra flash e led sia una cosa fondamentale per i vostri lavori. E non bisogna sbagliarsi con le denominazioni nonostante sui tipi di accessori che andiamo a comprare ci sia la stessa dicitura, ovvero in questo caso 600 watt. Un confronto se vogliamo anche un po' impiedoso perché sono due tipi di illuminatori totalmente diversi, ma secondo me un confronto che andava assolutamente fatto. In tutti i casi se avete dubbi potete scrivermi qua sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale se volete vedere altri video come questo e se volete supportarmi. Mettete anche un bel mi piace e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!